...diverso rispetto a quello che magari potrebbero fare... Sta per essere completata un'articolata ristrutturazione e riqualificazione di quattro aree verdi cittadine in cui saranno collocate nuove strutture di arredo urbano per consentire a grandi e piccoli di usufruire al meglio del verde pubblico. Fano 2 e San Lazzaro hanno già avuto il via dei lavori mentre per altre due zone si partirà a breve che è la zona del Patibolo e della Sassonia di cui ci siamo occupati anche a Fano TV con un servizio dove verranno sostituite le strutture fattiscenti e dove verranno posizionati moderni giochi componibili tra cui una bella nave stile pirati e panchine come pure ai giardinetti del Fenile sulle cui condizioni di abbandono e degrado più volte i residenti hanno richiamato l'attenzione del comune. Con questo nuovo appalto andiamo a posizionare nuovi giochi riqualificando tutta una serie di nuovi giardini pubblici ma in realtà l'obiettivo è quello di intervenire quasi sulla totalità degli spazi verdi perché a questo seguirà un nuovo affidamento ad una nuova ditta dove andremo a sistemare anche quegli spazi di cemento dove si gioca con la palla e andremo a fare dei percorsi fitness quindi arriveremo a fine del mandato con un intervento nella quasi totalità degli spazi verdi perché anche questo significa riqualificare, migliorare l'accelità, migliorare la qualità della vita questi spazi sono per tutti dai più piccoli ai più grandi quindi anche questo è un impegno che avevamo annunciato che vede la realizzazione. 100.000 euro l'importo destinato a queste opere che verranno eseguite da una ditta trentina la Pozza 1865 specializzata in questo tipo di opere che inalzano il tasso di vivibilità dei quartieri in generale e delle aree urbane. Non lo facciamo sostituendo banalmente le altalene, i dondolini che ci sono nei nostri parchi che continueranno a esserci ovviamente ma aggiungiamo anche strutture ludiche un po' più complesse, modulari in maniera tale che insomma possano diventare spazi veramente anche molto più frequentati di quanto sono ora questi sono interventi importanti che riqualificano la città rendono omaggio anche a tanti comitati, associazioni, liberi cittadini che ci hanno sottoposto in questi anni appunto situazioni di degrado stiamo intervenendo, lo facciamo seriamente e cercheremo di aumentare anche la vivibilità di questi spazi.